American Riviera Orchard approda su Instagram la nuova pagina della duchessa del Sussex la quale è proprio lei che si firma Meghan Markle, The Duchess of Sussex quindi non è proprio che sto facendo una presa per il culo, io non mi permetterei mai, voi lo sapete un progetto del tutto misterioso questa pagina Instagram viene aperta e subito dopo qualche ora raggiunge i 100.000 followers tra l'altro è accompagnata pure da un sito web, una pagina web omonima con lo stesso nome American Riviera Orchard sul sito web non c'è niente praticamente si possono soltanto accettare termini e condizioni e i cookies del progetto ad ora è noto soltanto il nome e allora partiamo proprio da lì partiamo dal nome American Riviera Orchard frutteto della riviera americana io ci ho già fatto la parodia per chi l'avesse vista, per chi se la fosse persa andatevelo a vedere in cui ironizzavano su questo nome frutteto quindi che cosa può essere loro hanno una bella mansion a Montesito con tanto di giardino quindi la cosa più istintiva che mi è venuta da pensare è che trasformassero il loro giardino in un frutteto da cui il frutteto americano della riviera o il frutteto della riviera americana dipende da come lo si intende la diacenza dei nomi concludendo ironicamente che Megan si fosse messa a fare le marmellate anche perché il video della presentazione che lei ha caricato come stories su Instagram fa vedere accompagnato da una bellissima canzone che purtroppo non posso condividere perché se no mi bloccano questo video per copyright I wish you love in questo video di 30 secondi Megan si vede che sta cucinando sta diciamo mescolando qualcosa in una pentola quindi io che sono uno scemo ironizzo dicendo si è messa a produrre le marmellate ma Vanity Fair che è una rivista molto più diciamo attendibile di quello che dico io che sono un salto in banco anche ipotizza che questo progetto di cui al momento non si sa niente sia un progetto gastronomico quindi sulla base di questi pochi elementi mi viene da pensare che se non si sono messi a produrre le marmellate come progetto gastronomico mi viene da pensare che si siano aperti una trattoria o un ristorante magari un ristorante gourmet o una trattoria gourmet da Megan la duchessa del Sussex solo frutta di prima qualità crudité no? mi immagino anche secondo Page Six ma vi giuro che io l'articolo di Vanity Fair l'ho letto dopo e questa cosa la riporta Vanity Fair io ho avuto la pensata alle marmellate appena ho letto ho appena ho tradotto il nome frutteto marmellate ma anche Page Six che è un'altra rivista ipotizza che il progetto si basi proprio sulla vendita di marmellate, gelatine, creme spalmabili ma anche posate e libri da cucina io non so sulla base di cosa Page Six ipotizzi le posate e i libri da cucina i libri da cucina ancora ci sta ma come fai ad ipotizzare le posate? da dove le hai viste nel sito non... forse perché lei utilizza un cucchiaio per mescolare all'interno di quella pentola in quella stories di 30 secondi ed i libri da cucina ci sta perché effettivamente da una duchessa tu ti aspetti che sia una persona colta no? che si metta a scrivere libri quindi magari uno spera più che altro che non si limiti soltanto a produrre marmellate che magari le fa fare ad Harry che poi l'altra cosa curiosa è che lei spunta in questo progetto da sola dopo che The Tig, il suo blog, chiude nel momento in cui lei sposa il principe Harry tutti i progetti che avevano intrapresi... che avevano intrapreso le avevano intrapresi insieme together zusammen invece in questo progetto lei è completamente sola quindi o Harry sta nel backstage o Harry non è proprio contemplato se Harry sta nel backstage lei lo metterà a fare le marmellate, a pelare la frutta e poi lei le vende nella pagina Instagram che nel frattempo è arrivata a 500.000 followers il Megan Fan Club sta ritardando comunque a fare sentire la sua presenza al momento si vede soltanto lo stemma o dovrei dire meglio il logo del brand che sembra ricordare vagamente lo stemma della casa reale ma per fortuna questa volta non hanno utilizzato lo stemma della casa reale perché già sono stati avvertiti l'altra volta quando lo hanno utilizzato per aprire il sito Sussex Royal e lì Buckingham Palace ha inviato un'investigazione per capire se si trattava di qualcosa di commerciale perché se avessero utilizzato quel sito per vendere prodotti avrebbero rischiato non di essere diseredati perché quello praticamente lo sono già ma molto peggio qua si è... ha creato lei un altro logo non si capisce se sono delle lettere una R una C ho cercato un po' di capire ma si capisce se una M una R una A potrebbe essere tante cose con una sorta di corona stilizzata di sopra ma non si capisce bene se sono delle lettere o sono o è un simbolo ma è l'unica cosa che spunta nel sito e nella pagina di Instagram quindi essenzialmente sulla base di questi elementi uno è libero di spaziare con la fantasia quanto più può quindi laddove l'intelligenza umana non può arrivare ci si affida all'intelligenza artificiale quindi mi sono sentito così creativo e ho chiesto a ChatGPT elenca 10 tipi di business che si possono sviluppare nell'ambito della gastronomia tanto finché non sappiamo di più potete soltanto accettare termini e condizioni nel sito e i cookies che comunque sia sono già qualcosa che hanno a che fare con la gastronomia i cookies no? si parte dai biscotti e si arriva alle marmellate magari sta pure coltivando dei cereali che ne sappiamo noi ChatGPT mi risponde ristorante a tema food truck cioè che vendono cibo su un camioncino non ce la vedo molto a meno che non sia un camion un camion reale ovviamente da duca e duchessa con una musica suonata almeno da cinque orchestrali no? degli archi e loro che gli vendono questi che vendono questo cibo anche perché lì Montesito è diciamo un vicinato di persone abbienti non è che puoi vendere no? il panino topolino come in una qualsiasi delle nostre spiagge italiane quindi potrebbe comunque essere food truck io non voglio escludere nessuna delle ipotesi di ChatGPT ho capito che con questi due bisogna andare molto di fantasia poi abbiamo un'altra che è molto papabile come opzione servizio catering caspita perché lei con i suoi contatti magari conosce molte persone che hanno bisogno di un servizio catering e magari lei sta sviluppando un servizio catering magari un servizio catering a tema che ne sappiamo poi un altro ancora molto probabile bottega alimentare e servizi gourmet cucina a domicilio che questo anche è un servizio che comunque costa anche se io non ce la vedo lei a cucinare tutto un pasto completo mi sembra un po' difficile magari manda qualcuno dei suoi servi che ha trattato male laboratorio di pasticceria scuola di cucina piattaforma di consegna di cibo comunque sia già siamo sul digitale e quindi lei che ha già aperto la pagina di instagram e il sito magari questo potrebbe essere anche inerente franchising di fast food o ristoranti casual siamo sempre lì se deve essere fast food deve essere fast food gourmet royal perché lei ormai è una duquessa ce l'ha scritto pure nella pagina quindi non si può scendere più di tanto in basso ma all'ultimo sembra proprio che chat GPT sappia a cosa io stia alludendo il motivo per cui sto facendo questa domanda perché dice produzione e vendita di prodotti alimentari confezionati quindi mancanza di ulteriori elementi non ci rimane che spaziare con la fantasia ma sono fiducioso del fatto che sapremo molto di più riguardo ad American Riviera Orchard molto presto in attesa di ulteriori informazioni io vi mando come al solito i miei saluti reali vi ringrazio di essere arrivati fino a qui per la vostra attenzione non dimenticate di lasciare un like o un commento e ci vediamo presto saluti reali